In questi giorni, tra un film e un altro visto in sala, ho deciso di recuperare qualche pellicola uscita sulle varie piattaforme, visto che nelle ultime settimane tra Prime, Infinti e Disney Plus ce ne sono di film che dovrei recuperare. Ho iniziato da Dangerous di David Oakle, questa pellicola prodata su Prime Video che ogni volta che aprivo la piattaforma mi si palesava di fronte. Quindi ho detto, dai, nel cast c'è Scott Eastwood, il figlio del grande Clint, abbiamo Tyrese Gibson che mi diverte sempre nei Fast and Furious, lui interpreta Roman, ma poi soprattutto abbiamo Mel Gibson, quindi vediamo, un film che ti si palesa così, sempre davanti, azione pura, sfrenata. Dai, vediamolo. Io vi giuro ragazzi che la cosa che ho appena fatto è più action di tutto Dangerous. Io non so se l'abbiano chiamato così per avvertire lo spettatore che sarebbe stato pericoloso avvicinarsi ad un'orripilanza di tale fattura. Però non so nemmeno dove iniziare. Il film ha una regia che non esiste. Definirla spenta sarebbe fare un complimento a quando letteralmente ti metti al buio in una stanza perché lì senz'altro c'è più luce. L'azione? L'azione non contemplata in un film action. Io penso che la piattezza di ogni coreografia che dovrebbe anche lasciare un attimo lo spettatore sbalordito, ma solo a utilizzare questo termine mi prende paura perché l'unica volta in cui ti senti sbalordito è quando ti rendi conto che in un'ora interminabile e mezzo di visione i protagonisti siano più idioti di quello che leccava i propri calzini per sapere che gusto avessero e tu pensi almeno c'è una trama, una trama interessante, una trama accattivante, una trama che ti fa dire cosa? Allora, il protagonista dovrebbe essere il figlio di Clint Eastwood, che dispiacere, io se penso alla carriera del padre e poi vedo cosa abbia fatto il figlio, ok, è in libertà vigilata, ha ucciso una persona diversi anni fa e quindi vive in casa agli arresti domiciliari. C'ha proprio la cavigliera elettronica, passa le sue giornate ad allenarsi e quindi sembrerebbe vivere una vita ripetitiva pronto ad attendere il giorno in cui sarebbe stato rilasciato. Nel frattempo con il fratello Sean si sente attraverso un rapporto epistolare, si mandano delle lettere. Sean comunque era un pezzo grosso della marina, anche esso poi scopriamo essere stato licenziato perché stava per uccidere uno dei superiori. Un giorno gli arriva la notizia della morte di Sean, del fratello. Bene, il fratello si trovava su quest'isola dove c'è un faro che illumina tutto intorno scenograficamente anche per nulla accattivante, ma vabbè, questi sono altri dettagli. Dovrebbe raggiungere quest'isola per andare alla veglia funebre, per andare al funerale. Solo che, come apprende la notizia, apre la porta di casa, era andato un attimo a prendere la posta giù nel corridoio, apre la porta e ci trova un tizio. Un stacco di immagine, jump cut, scopriamo che il fratello è andato tranquillamente alla veglia funebre. Quindi nessuno si è accorto anche durante tutto il viaggio che questo fosse uno agli arresti domiciliari e nessuno se ne è accorto è alla veglia funebre. La polizia arriva a casa sua e trova questo tizio che aveva trovato in casa alla Scarface appeso alla doccia, insanguinato, e la cavigliera buttata in terra, la cavigliera elettronica. Tu per tutto il film ti domandi anche chi fosse questo, ti domandi minimamente come abbia fatto a mettere K.O. questa persona, poi togliersi la cavigliera, andare via senza che nessuno se ne renda conto e continui a domandartelo anche dopo aver visto il film. Perché se vi aspettaste una risposta, beh, non c'è, ma è chiaro, no, è meglio far vedere che io entro in casa, c'è un tizio, va bene, questo è sull'isola. Sull'isola il nostro protagonista sente in continuazione il suo psicologo perché questo ha un problema, ha un disturbo mentale, quindi se non prende delle pillole ogni tot ore diciamo che diventa violento e potrebbe tornare ad uccidere. Su quest'isola vede il fratello morto e vi giuro penso sia più emotivo il modo in cui guardo io questa bottiglia d'acqua guizza che il modo in cui lui si palesa di fronte alla madre che non ne vuole sapere del nostro D, del nostro Dylan perché è stato un assassino, almeno questo lo pensiamo noi, ma soprattutto quando si trova di fronte al fratello, non lo so, ripeto, farsi la doccia quando abbiamo caldo è più emozionante, però insomma, vabbè, quindi non aspettatevi caratterizzazioni, personaggi tutti tagliati con l'accetta, ci sono dei personaggi presi e buttati lì su quest'isola e una mezza pazza, quello di colore, poi vabbè, dei personaggi poco incisivi, anzi per niente, e diciamo che il nostro protagonista sente lo psicologo, un Mel Gibson che ha girato il film in 20 minuti, io penso che dopo Cosmic Scene qua si rasenta proprio il ridicolo, il nostro Mel Gibson che dice sai cosa, io vado lì, mi pagano dei milioni, in 20 minuti giro tutto, questo è uno che sta sempre al telefono, che beve, che beve, poteva essere anche un po' autoironico pensando al trascorso dell'attore e del regista ed invece si lascia tutto lì a marcire. insomma si sentono, tra l'altro lo psicologo, questo psichiatra è stato anche, è stato anche, diciamo, è venuto a sapere di questa fuga perché il detective che si occupa del caso è andato a casa dello psichiatra e gli ha detto guardi che il suo paziente è scappato e bla bla bla, quindi non è che quando lo sente al telefono gli dice hai la polizia alle costole, guarda che lo so quel che hai fatto, i dialoghi sono aberranti, ma tu per caso devi dirmi qualcosa che hai fatto nell'ultimo periodo? No, assolutamente no, perfetto, ciao. E questo è il minimo perché ad un certo punto la notizia giunge anche sull'isola e quindi il detective del posto, interpretato da Tyrese Gibson, sprecatissimo, lo incarcera, lo mette in gabbia, come si suol dire, ad un certo punto però arrivano questi barconi, arrivano questi barconi e dovrebbero esserci questi criminali, dovrebbero dico perché il nemico principale è una macchietta ma proprio incredibile, non ha il minimo, non ha la minima caratterizzazione, non è incisivo, non riesce ma neanche un secondo a crearti disagio, non riesce nemmeno un secondo ad essere cattivo come dovrebbe, fatto sta che uccide in un attimo il detective, qua spoilero, perché è un film talmente inconcepibile che lo dovreste vedere solo per quanto è brutto, per capire come non si faccia il cinema. Il nostro Scott Eastwood si fa aiutare dalla tipa del posto per uscire dalla gabbia e inizierà il suo cammino vendicativo, che poi non è vendicativo, perché più che vedere un tizio che deve difendere questi scapestrati dalle violenze di questo gruppo di delinquenti che sembrano più degli scappati di casa, più che assistere a questo vediamo un emerito imbecille che gira in lungo e in largo per l'isola, che un attimo è sul faro, un attimo dopo è in casa, ma che va proprio a due, sembra non ci abbia le file, sembra di vedere uno zombie movie, ma non è uno zombie movie, anzi gli zombie fanno percepire qualcosa in più allo spettatore cammina, va par che torni come si dice in Toscana, va e poi ogni volta di fronte alle scene action l'incompetenza assoluta registica di montaggio, questo mi sono informato era un ex scenografo, quindi se facevi le scenografie e decidi di passare dietro la macchina da presa, noi lo guardiamo anche il tuo film, però quando sei dietro la macchina da presa non stai facendo le scenografie, devi un minimo sapere cosa significhi essere un regista, ed invece no, perché la tensione è pari a zero, ci troviamo di fronte a scene in cui ci si spara a turno, quindi se c'è una sparatoria, tum, si aspetta che spari l'altro, tum, e poi sparo io, tum, ok, ci troviamo di fronte a scene inconcepibili in cui non c'è azione proprio, a un certo punto ci troviamo di fronte ad un mitragliatore si riesce a buttare via anche una scena con un mitragliatore che poteva essere vincente, tu hai di fronte i tuoi nemici, cominci a sparare, tu 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 tu, cadi tu all'indietro ma non ne prendi neanche uno, fammi vedere che uno lo prendi di sghimbescio, fammi vedere che uno ha una ferita dietro un orecchio, nulla, tu dici ma io come faccio a credere anche volendo sospendere l'incredulità che letteralmente io spari a distanza ravvicinata a te e non ti prenda ma fosse questo il problema, non c'è proprio azione, non c'è proprio carisma, non c'è proprio mordente, non c'è alchimia fra i protagonisti, il nostro D, il rapporto con la madre, il rapporto con queste altre persone inutili al funerale del fratello che non vedi nemmeno mai in faccia, non capisci cosa centri tutto a livello anche narrativo di sceneggiatura, la sceneggiatura è un colabrodo, non capisci cosa centri tutto ciò con questi nemici, con questi criminali più piatti di non so cosa che arrivano ad un certo punto sull'isola e poi il finale, erano lì per cercare un tesoro, un tesoro della seconda guerra mondiale che in primis stava cercando il fratello di Dylan solo che si era indebitato quindi è stato ucciso e ora sono arrivati i cattivoni a cercarlo allora intanto mi spiegate veramente a cos'è servito Mel Gibson, cioè il ruolo dello psichiatra se non a guadagnare dei milioni a dire sapete cosa mi importa una bella sega, io vengo, mi pagate, in 20 minuti giro tutto, devo girare solo tre scene in cui rispondo al telefono anche mezzo ubriaco, mi spiegate a cos'è servito, mi spiegate a cos'è servito, nulla, i fini della trama non aggiunge niente, il tesoro, ma a cosa c'entra un tesoro, ma un tesoro della seconda guerra mondiale, cioè all'inizio mi fa iniziare il film come la storia di uno che evade dagli arresti domiciliari, che ha ucciso una persona di cui poi non sapremo più niente, si puoi pensare che siano stati cattivoni, cosa mi vuoi dire con questo film terribile? Narrativamente, registicamente, fotograficamente, sembra di vedere una serie di sette gold e quelle, sai dopo l'undici e un quarto marce che ti buttano lì come a dire tieni puppatele, cioè la recitazione non esiste, sempre in overacting, cioè una recitazione incredibile con dei dialoghi poi, dei dialoghi imbarazzanti, ma del tipo che c'è il nostro stupido protagonista che continua a telefonare allo psichiatra sotto un bombardamento, ehi tu, ma al mio posto cosa faresti se ti trovassi in una situazione? ma quale situazione? Ma tu, c'è questi, ti stanno sparando, ma dici, caspita, ma chiami la polizia, se io sono demente da non chiamare la polizia, perché ok, potrò essere evaso dagli arresti domiciliari, ma ho un gruppo di nemiconi, di cattivoni che mi stanno sparando, che mi stanno cercando di uccidere, io no, preferisco fare lo zombie, fare... questo, cioè, nel senso, fosse alla Clint Eastwood, no, tu dici, lo straniero senza nome, questo è lo straniero senza testa, lo straniero senza palle, lo straniero senza intelligenza, inizi a camminare, a vagare, io dicevo, speriamo lo bombardino, cioè, questo non deve morire, deve morire male, cioè, nulla, comincia a camminare, e poi bisogna anche assistere a questi dialoghi, cosa faresti? Tu, ma dillo, dillo, ci sono delle persone che mi stanno minacciando, chiami la polizia invece di star lì a bere, chiama la polizia, almeno tu sei utile anche te a qualcosa. Mel Gibson non dice nulla, che intanto aveva parlato con quell'altro detective rintronato, questa donna, che ci mette tutto il film per capire, per unire tutti i pezzi, quando bastava dirlo, oh, io sono venuto qua, uno ha cercato di aggredirmi in caso, ok, ho sbagliato, però, oh, qui mi stanno per uccidere, venite a salvarci, nessuno ha in mente di chiamare la polizia, se ne fosse uno, nessuno, cioè, non è che si sta parlando di essere nel triangolo, non lo so, delle bermuda, cioè, e siamo proprio delle bermuda, perché ci sono dentro delle teste di cazzo, come nei bermuda, cioè, voglio dire, cioè, a parte le battute, io non avevo parole, quindi il personaggio di Mel Gibson, che non esiste, che è lì letteralmente perché lo pagano, questo che continua con questi dialoghi assurdi, inutili, fuori di testa, è poi un finale in cui, basta, si scappa via, si sistemano questi disgraziati e si scappa via, cioè, un film, io non lo so, non so veramente da dove inizia, è un film che ho già finito, non so da dove iniziare perché ho già finito, è un film proprio aberrante, è un film pessimo, è l'anticinema per eccellenza, mai una volta, dici, ha un cast comunque di nomi che potrebbero portare avanti un buon film d'azio e nulla, non c'è azione, è tutto piatto, le scene che dovrebbero essere anche minimamente allettanti sono da lasciare senza parole, per quanto brutte, non c'è un attimo anche il desiderio di dire, dai, vediamo come va a finire, dopo venti minuti dici, mamma mia, manca più di un'ora, non ce la fai, ti viene proprio, non è a corto di idee questo film, è proprio a corto di film, non esiste, non è nemmeno un film, cioè, non lo so, ma come si fa, ma io mi chiedo, anche Scott Eastwood, Scott Eastwood, vi rendete conto che Scott Eastwood ha rifiutato il nuovo The Suicide Squad e ha accettato Dangerous, ma vi rendete conto, ma magari Scott potesse fare la carriera del padre, ma non è così, non è così, cioè, avevi un protagonista che ha anche un problema mentale, tipo, ha i propri sentimenti dissociati, quindi non riesce a gestire le emozioni, poteva essere anche interessante lo sviluppo di un personaggio realmente che dovesse giocare tra la follia che lo porta ad uccidere l'equilibrio umano, ed invece no, niente, un minimo di etica contrapposta alla violenza istintiva, nulla, ragazzi, Dangerous è pericoloso, come dice il titolo, se l'aveste visto fatemi sapere la vostra, io le do un'altra bevuta perché non ce la faccio più, nelle info trovereste i link per abbonarvi, fate una cosa buona, magari abbonatevi perché almeno abbonandovi ricevereste in cambio contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana e che posso dirvi, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo ad un prossimo video, ho iniziato proprio da Dangerous con il recupero dei film sulle piattaforme, qualcuno mi vuole male, ciao!